amici sportivi bentornati qui su wwe questa volta ragazzi c'è il mio collega gerry ciao ragazzi siamo tornati siamo tornati più carichi che mai come questo questo episodio ne vedremo delle belle perché vedremo ragazzi un match per il titolo della wwe championship tra aj styles il duplice campione del fenomenal duplice campione lo ricordiamo perché ha sia il titolo intercontinentale tale ma il titolo che indagina stasera contro ragazzi con wrestler che ci riprova per l'ennesima volta da capararsi titolo ovvero john you can see me sina detto questo ragazzi andiamo subito all'arena per vedere questo match spettacolare mamma mia siamo qua le clash of champions gold rush e sta per entrare mamma mia signori eccolo mamma mia questo occhialino tattico e ci riprova ragazzi ci riprova perché ricordiamo non è andata molto bene nei scorsi episodi eh non è andata molto bene nei scorsi episodi eh non è uno stesso episodio ha vinto the rock esatto nel primo episodio per poi perdere nel secondo ha perso con incontro il legisimo ager style tra l'altro tra l'altro ragazzi c'è regno di the rock che non è durato moltissimo possiamo dire un mezzo c'è ha vinto l'animation chamber poi l'ha perso subito vero vero ed eccolo ragazzi martin is now you can see me pronto per riprovare e provarti ad accaparrarsi il titolo mi sembra molto deciso eh mi sembra molto deciso però molto molto deciso dall'altra parte c'è un contendente che è un contendente che non scherza anzi The Phenomenal ha dimostrato in un match con più superstar che comanda ragazzi non poco certo e oggi ne vedremo quelle belle chi vincerà secondo voi tra John Cena e The Phenomenal mamma mia ma secondo te Jerry tu devi dare il tuo classico pronostico il mio pronostico allora ma intanto sta entrando lui eh se la vedono dura questi due questi due wrestler che non scherzano mica intanto sta entrando il campione The Phenomenal The Phenomenal col suo titolo col suo titolo alla vita e dice questo titolo io lo difenderò fino alla morto mamma mia ragazzi così ha detto il nostro campione The Phenomenal tra l'altro avrete notato che nelle nostre puntate nella nostra serie di WWE noi ci rifiutiamo di usare i titoli nuovi ma usiamo i classici perché sono sempre i migliori di vero mamma mia guardate che bella la cintura del WWE Championship mi sembra molto sicuro di sé G Styles eh G Styles si è molto sicuro di sé perché sa di vincere cioè è determinato è intanto una carica sul ring che è determinato mamma mia ragazzi anche John Cena non scazza mica anche lui determinato come ormai come sempre in ogni evento perché il detto di John Cena è never give up mai arrendersi mai arrendersi lui vuole tornare un po' a levette no? della WWE perché ha un po' di tempo che non si accapparra e never back down mai affondare mamma mia ricordiamo ragazzi don't try this at home non fattolo né a casa né a scuola né da nessuna altra parte ed ecco vi ricordiamo che questo match è per il WWE WWE Championship si parte ragazzi si parte sono molto emozionato ecco qui John Cena secondo te Jerry il pubblico io non riesco a... cioè da che parte sta? non lo so alcuni da John Cena altri da IG Styles non si capisce molto bene però siamo certi che alcuni sono col campione ovviamente e beh certo però essendo che c'è John Cena dall'altra parte che è una leggenda del wrestling mi piace icona diciamo eh degli anni... primi anni 2000 della WWE IG Styles non so te ma guardaci questa secondo me è la cintura più bella che abbia mai fatta non a caso l'abbiamo scelta appunto nella nostra serie e c'è l'albitro che la alza e c'è l'albitro che la alza sì questa è in palio sta per cominciare eh Jerry sta per cominciare sta per incominciare il match via il gong si parte mamma mia attenzione subito che IG Styles promuola Spear ma c'è il reverse di John Cena che calcio alla schiena bom calcio il suo stinto partito bene qua you can see me in my time is now eh si suplex suplex subito l'ha sentita l'ha sentita l'ha sentita AJ bom lo afferra lo spedisce all'angolo aia e alza le mani al pubblico attenzione powerbomb uh powerbomb e conta subito niente neanche l'albitro non riesce neanche a mettere il primo la prima manina altra facciata AJ Styles che vuole volare dalla terza corda oh e ci prova è giù pesante con i due pugliazzi in testa John Cena John Cena lo afferra attenzione mossa incredibile ma si rialza subito IG Styles il reverse però oh oh ah no pensavo erano i few invece no attenzione John Cena lo spedisce all'angolo ai 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 questo l'ha sentita eh piedone sul torso di AJ The Phenomenal e calcio dolorante il campione andiamo lo prende ancora pugni 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 ancora pugni e dice questo qua è il titolo il mio deve essere il mio deve tornare ad essere il mio reverse subito di AJ Styles questo ha fatto male subito reverse John Cena è una guerra di reverse qui è una guerra di reverse si attenzione John Cena prende il braccio di AJ tenta di spaccarlo calcione sul sul muscolo sul precipite lo alza ancora non contento lo afferra e lo spedisce di nuovo all'altro angolo crossline crossline sul collo AJ Styles si rialza reverse di John Cena subito oh lo vedo molto in forma John reverse di AJ Styles eh questo è un matchone ragazzi reverse di John Cena eh cosa sta succedendo oh comeback di John Cena comeback di John Cena altra comeback di John Cena dice alzati e la sua mossa classica boom oddio Jerry lo fa? oddio lo fa? lo fa? lo fa? alza la mano you can see me fai il ruffle shuffle spolverino spolverino subito fai il ruffle shuffle e questo è in faccia e si prepara si prepara per le fiu per le fiu e fiu ma no ma no reverse di di AJ Styles sberli in faccia di AJ il ruzione crossline crossline di AJ Styles calcio va sull'angolo adesso vola della terza corda non ci può arrivare non ci può non ci può e infatti feguto in me AJ Styles pugna ancora di John Cena attenzione reverse calcio testata testata si rialza subito ma comunque fa impressione come AJ Styles si rialza subito si rialza subito immediatamente è incredibile è incredibile è incredibile e il wrestler è detto anche il wrestler con più resistenza lo sai Lele? eh si eh lo sto notando proprio in questo momento attenzione intanto John Cena è proprio impertetto a spaccare il braccio altro calcio sul tricipite ma stordimento stordimento subito cosa fa? ah ricordiamo che questo è un match dove vale tutto eh vale tutto vale tutto è vero cosa vuole fare John Cena? prende la sedia la batta in faccia al campione ancora cosa fa? infierisce sulle ferite la incastra la incastra tra l'angolo è una bella botta no vuole farlo? si lo lancio coso lo lancia boom ai 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 subito botta in faccia John Cena sta proprio torturando il campione vediamo che prepara il tavolo prepara il tavolo per vuole fargli la mossa sul tavolo Jerry non so perché io la vedo male per il campione stasera eh potrebbe essere già la disdetta del campione? non lo so va che ogni ogni incontro nel tavolo potrebbe anche riservare sorprese riservare sorprese riservare sorprese quindi potrebbe anche vincere Jay Styles intanto John Cena ha portato il tavolo sul ring certo attenzione che agilità ha anche di UKCM ci prova subito 2 niente non ce la fa ha il pelo ha un pelo mamma mia ragazzi subito Jay Styles si alza subito John Cena subito ferra German suplex eh si attenzione prende il tavolo prende il tavolo sbatti in faccia il campione il campione per terra ancora una volta per terra Josina apre il tavolo e lo posiziona no no vuole fare quello che penso vuole fargli l'ay few sul tavolo hai capito bene è unay few sul tavolo penso lo fa è una powerbomb è una powerbomb sul tavolo invece oddio powerbomb stordimento da parte di John Cena è gasato John è gasato è gasatissimo sentite il pubblico sentite il pubblico sentite il pubblico this is awesome questo è fantastico calcione in faccia mi dice alzati ragazzi c'è Jay Styles che è devastato devastato è stanchissimo ma John Cena continua ragazzi vuole proprio distruggerlo lo manda all'angolo lo alza no vuole fare quello che penso pugno si prepara no una superplex jerry superplex una superplex c'è ragazzi si alza reverse voleva fare la spear ma non ce l'ha fatta ginocchiato in faccia da parte di John Cena reverse 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 John Cena ragazzi c'è John che è carichissimo boom stordimento eh la vedo male di nuovo manina you can see me lo fa spolverino boom altra volta in faccia ragazzi io qua c'è forse in John Cena la chiuderei ma invece sale sull'angolo esulta e si butta mamma mia ragazzi massacro oggi di Jay Styles si beh a questo punto io se devo fare un predict io do al vincitore John Cena eh ma invece nel wrestling può succedere di tutto si riprende AJ Styles bossa finale non ci credo non ci credo non ci credo si può ribaltare la situazione non ci credo ci prova non ci riesce non ci riesce ma ancora un'altra possibilità AJ Styles ancora un'altra possibilità per difendere il titolo e crossline crossline di AJ Styles da parte di John Cena John Cena lo manda fuori lo manda fuori al ring nooo non ci credo vuole buttarsi dalla terza corda non ci posso dare il misterio oddio e vola dalla terza corda reverse reverse di AJ Styles che sale sul ring e dice ti aspetto sul ring sull'arena dobbiamo combattere sull'arena che match prende la sedia John Cena intanto una calcione subito di AJ Styles pugnazzo superman punch da parte di AJ Styles calcioni e pugni in faccia da parte di John Cena eccolo sale pugni in testa 1,2,3 sentite il punto di come conta 5,6,7,8,9,10 mamma mia ragazzi una combo completa di 10 pugnazzi in fronte al campione certo da per terra lo solleva guardate la potenza di my time is now mamma mia mamma mia tanta roba tanta roba sediata ancora sediata sul sulla bocca dello stomaco in testa in faccia tutte le parti la sedia la sedia è spaccata è rotta ragazzi cioè ragazzi se AJ Styles esce da questo match senza un infortunio è un miracolo eh attenzione no e dice ti faccio una bella infiu sul tavolo no ragazzi fermate è un massacro questo aia ehi fiu quella che ha fatto ma no come ha fatto cosa è successo il pubblico è pazzesce si è rialzato in piedi si è rialzato in piedi ed ha fatto una bella spiera alle gambe non l'ha sentita minimamente non l'ha sentito dice il titolo è mio e lo difenderò reverse di AJ Styles non c'è riuscito reverse di John Cena ragazzi è una guerra una guerra questa è la guerra questa è la WWE ragazzi lo sporchiato ci appassiona ancora ancora subito no ragazzi questo è un match soprannaturale non è possibile altro che Undertaker qui attenzione AJ Styles sale sull'angolo e John Cena come se gli dicesse dai salta da qua eh e fatti infatti non ce l'ha fatta oddio mio John prende la scala ma James DJ Styles DJ Styles un'altra reverse di AJ Styles un'altra reverse di John Cena calcione e via DDT subito per terra AJ Styles si alza subito ancora pugnazzi in faccia e giù per terra la riprende come l'ascensore vuole sbattere le faccia ma scappa AJ Styles e va sul ring John mette la scala sul ring la porta ma dice AJ Styles ti asperta altri pugnazzi in faccia pugno sui testicoli mamma mia e giù di reverse di John Cena ancora l'angolo AJ Styles mancato preso in testa con la la vomitata prendi la gamba la alza la alza vecchia alla gamba subito calcione sul ginocchio eh questa l'ha sentita eh altro calcione sul ginocchio lo rialza lo rialza lo rialza come niente come più ma dice questo qua non pesa niente esatto e giù si rialza di nuovo e si rialza di nuovo reverse di John Cena subito agia questa l'ha sentita ragazzi questa è sordimento e via però non lo conta cioè hai fatto caso che Johnny non lo conta non lo conta sembra che vuole far soffrire dice io ti faccio soffrire guarda guarda l'ho spinto una verso cosa vuole fare una super crossline super crossline è giù ancora calci nella le quadricipite ragazzi come se John Cena fosse impazzito cioè vuole talmente il titolo che è disposto a torturare il suo avversario sale sulla terza corda si ributta e diete curata alza crossline al piede al ginocchio questa l'ha sentita il ginocchio anche perché John Cena si era infortunato una volta al ginocchio è pronto è la fenomenal ed è pronto nooo reverse di John Cena non ci credo ragazzi sto match sta diventando non lo so tutto uno di reverse ma un po' di reverse è allucinante calcio pugno calci pugni pugni ancora in faccia gomitate calci pugni pugni calci eh vabbè ragazzi non ci sta percamendo niente John Cena John Cena perla altro schiaffo di John Cena lo alza lo alza e giù oddio reverse reverse ah no pensavo quasi un angle lock invece no attenzione John Cena lo prende per i capelli lo sbatte sulle corde lo afferra gli prende il braccio lo incasta nella corda e lo tortura mamma mia ragazzi boom crossline fuori dal ring ma subito si rialza il Jay Styles tanta roba il Jay Styles ragazzi ma questo c'è superman punch da parte di Jay Styles che è successo che è successo figura di merda di tutti e due spiar al al ginocchio non ci posso credere pugni di John pugni di John lo sbatte sulle corde lo sbatte sulle corde niente ragazzi sono esausti di tutti e due altri calci pugni di Jay Styles gomitate calci da tutte le parti oh la fa la fa la del fenomenal non ci credo e vediamo non ci credo ragazzi 1 2 e 3 il campione si tiene ancora il titolo ragazzi John Cena ha fatto di tutto per per torturare il suo avversario ma non è riuscito a strappare il titolo è allucinante cioè Jay Styles in questo match è stato fenomenale in tutti i sensi in tutti i sensi infatti il suo soprannome è The Phenomenal ma cioè Jerry ma a questo punto chi può fermare un campione del genere? eh non lo so perché mi hanno detto da regia che un wrestler molto conosciuto è pronto molto famoso è pronto a riprendersi anche lui il titolo tanto è mio Jay stai se la rialza signori con tanto di sangue in faccia mamma mia ok ragazzi questo episodio termina qui con un match all'ultimo sangue cioè che tra l'altro vede vincitore di nuovo AJ Styles il campione mamma mia si tiene il titolo si tiene il titolo e l'ha difeso con tanta tanta roba forza di volontà forza di volontà cioè non viene da definirla come e qua c'è proprio da dire che The Phenomenal è proprio The Phenomenal esatto ma no ma quasi sovranaturale sovranaturale sì tutti i colpi sul tavolo la powerbomb sul tavolo di Leipzig da Superplex e il wrestler cioè il primo wrestler che è Cody Roots un grande campione anche lui che è resistito molto è uno dei wrestler più resistenti e AJ Styles è il secondo tra l'altro con una leggenda del vestito come John Cena che comunque non è una delle prime armi una delle prime armi ovviamente non è come Dragulli però però attenzione a quello che vi diciamo nella prossima puntata ragazzi il campione dovrà vedersela con un veterano del lucia libre e a forza non diciamo il nome il luciador il luciador di eccellenza non diciamo il nome anche se alcuni di voi già l'avranno capito ma se la dovrà vedere con l'uomo mascherato da lui col volto uno dei volti più famosi picconici di questo sport vi lasciamo questo ragazzi vi lasciamo con l'hype perché il prossimo match sarà assurdo assurdo e in futuro ragazzi vedremo dei match veramente atomici non vi svegliamo nulla non vi svegliamo niente detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video sempre e solo qui su WWE allora qui alla prossima alla prossima